SARS, MERS e Covid-19 sono tutte patologie a trasmissione zoonotica. Cosa significa? Significa che c'è un serbatoio naturale della malattia che è rappresentato dai pipistrelli e che poi avviene il salto di specie all'uomo attraverso un ulteriore animale. Nel caso della SARS erano gli zibetti, sono piccoli animali venduti, selvatici venduti nei mercati asiatici. Nel caso della MERS era il cammello o il dromedario. Nel caso del Covid non è stato ancora identificato, ma si ritiene, almeno alcuni autori cinesi ne parlano, possa essere il pangolino. Il pangolino è un piccolo formichiere che viene, le cui carni vengono considerate una eccellenza, una prelibatezza in Asia e in Africa.